Ciao, in questo video ti voglio parlare della nuova figura professionale che si sta diffondendo moltissimo in questo momento e che si chiama Amazon Account Manager. Ma partiamo facendo un passo indietro e capendo anche perché stanno emergendo queste figure. Ovviamente se segui un po' le notizie, se vedi in generale come sta girando il mondo in questo momento e l'economia, vedi che il modello tradizionale anche del commercio offline sta soffrendo molto, sia per questioni che stiamo vivendo, magari della pandemia, sia per altri motivi, ma le persone si spostano sempre di più online, quindi gli acquisti online aumentano moltissimo, gli e-commerce crescono, Amazon si sta prendendo sempre una fetta più grossa del mercato e si sta consolidando come un gigante, veramente un marketplace numero uno al mondo in questo senso. e di conseguenza nascono anche nuove opportunità di lavoro all'interno di questo cambiamento, per cui il mondo vecchio in un certo senso sta affondando e sta venendo avanti un mondo nuovo dove all'interno di questo mondo nuovo nascono delle nuove opportunità. In effetti se tu ci pensi, man mano che le aziende si spostano online per cercare nuovi canali distributivi, nuovi sbocchi, nuovi clienti, di conseguenza qualcuno deve pur gestire questi negozi online. E cosa succede? Che alcune volte l'imprenditore magari si forma direttamente oppure decide di formare un team interno all'azienda. Altre volte però sapendo che ha poco tempo, ha già tantissime cose da fare, cerca già o delle agenzie o dei professionisti specializzati nella gestione delle vendite online. E siccome tantissime aziende partono proprio da Amazon nel creare un business online, nel portare i loro prodotti online, allora a quel punto si inserisce questa figura di Amazon Account Manager. Andiamo a capire anche insieme che cosa fa esattamente. Quindi immaginati un'azienda che per esempio vende articoli da cucina. Ha 10.000 articoli da vendere, ovviamente deve caricare le schede prodotto su Amazon, deve curare la promozione, deve curare il lancio, il posizionamento di questi prodotti. Ci vogliono delle persone, ci vogliono delle persone però specializzate che conoscano questo nuovo mestiere. E qui arriva un po' come Superman, arriva l'Amazon Account Manager. Quindi che cosa fa questa persona? Questa persona è formata a 360 gradi per essere in grado di fare delle analisi di mercato, per esempio e capire quali sono le nicchie, i prodotti profitevoli, qual è la situazione della concorrenza, la situazione a livello di prezzi, capire anche quali sono i trend di mercato, capire quali sono i potenziali fatturati. Poi deve essere in grado di caricare e ottimizzare delle schede su Amazon, quindi selezionare le parole chiave giuste per poter posizionare questi prodotti. Deve essere in grado di promuovere i prodotti, deve essere in grado anche di gestire magari delle vendite all'estero, in tutta Europa. Deve essere in grado di lanciare un prodotto, quindi ha una conoscenza a 360 gradi. Dato che non è un lavoro sicuramente per tutti, ma è un lavoro che può dare delle soddisfazioni enormi anche a livello economico, allora queste figure sono sempre più richieste e di conseguenza c'è sempre più domanda per formarsi e per diventare un Amazon Account Manager. Ma qual è il futuro, quali sono le prospettive anche parlando in termini economici di un Amazon Account Manager? Sicuramente può lavorare come libero professionista, gestire più account di piccole aziende e farsi pagare con un fisso magari più percentuale o solo con percentuale o con un fisso più importante il suo lavoro, oppure gestire gli account di poche grosse aziende e effettivamente gestire dei fatturati importanti. L'altro sbocco che può avere l'Amazon Account Manager è andare a lavorare per un'agenzia che gestisce account, perché spesso la persona singola non riesce ad avere quella struttura, quella forza e anche un po' le capacità per gestire degli account e delle aziende molto grosse. Per cui insieme, in gruppo, lavorando tramite delle agenzie, possono accedere a dei lavori molto più importanti e anche più remunerativi in termini economici. Quindi come vedi è una delle professioni legate al mondo digitale che sta nascendo sempre di più, sta crescendo e ormai non è più una cosa del futuro, è una cosa del presente. Noi per esempio come scuola e-commerce andiamo a formare questi professionisti, quindi gli diamo una formazione per 160 gradi in tutto e per tutto, su come vendere su Amazon, come gestire i clienti, come presentare delle offerte, quindi veramente tutto da A alla Z e soprattutto poi li mettiamo alla prova. Quindi creiamo un percorso dove loro possono fare un esame e solo dopo aver sostenuto e passato l'esame bene, quindi con dei risultati positivi, solo allora possono ottenere una certificazione ufficiale come Amazon Account Manager che possono utilizzare nel mondo del lavoro. Ma addirittura andiamo oltre perché spesso essendo visibili online e avendo tante richieste di aziende che cercano già queste figure abbiamo la possibilità di unire domanda e offerta, quindi mettere in contatto l'azienda con il professionista formato da noi che vuole cimentarsi all'interno di questa attività. Quindi si creano proprio delle offerte concrete di lavoro subito dopo la formazione. Un po' come per esempio quando tu fai certe università che poi ti mettono in contatto con il mondo del lavoro, solo che qui è una cosa molto più veloce, molto più pratica e quindi vedi un riscontro fin da subito. Quindi se ti ha incuriosito questo tipo di professione, se magari hai voglia di scoprire di più, di capire un po' meglio come funziona, quello che ti consiglio di fare è di andare sul nostro sito www.scuolaecommerce.com vedere quello che facciamo e partecipare magari ad uno dei nostri webinar gratuiti dove spieghiamo sia le opportunità di vendita su Amazon ma anche questa nuova professione di account manager e soprattutto come riusciamo a formare le persone in questo. Ti aspetto sul nostro sito, ti aspetto nel webinar e ci vediamo dall'altra parte. Ciao e al prossimo video. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao! Al prossimo video!